Il tesoretto sparito da un conto corrente della figliale di Banca Marche di Porto d'Ascoli sarebbe stato investito in lingotti d'oro. E quanto sarebbe emerso dalle indagini della Procura di Ascoli partata avanti dalla Guardia di Finanza sull'ammanco di 460.000 euro per il quale risulta indagato un cassiere di Giulianova dello stesso istituto di credito. Attraverso il controllo dei vari registri nei quali gli uffici di comprooro devono riportare i dati dell'acquisto e vendita del metallo è il risultato che tempo fa il cassiere si è presentato in uno di questi e ha acquistato un certo quantitativo di lingotti d'oro per un importo di 460.000 euro, somma pagata con un assegno della stessa cifra. Sul titolo di credito era stata riportata la firma, ovviamente risultata falsificata, seppur ben limitata, della titolare del conto corrente dal quale è stata prelevata l'intera cifra. Siccome è il risultato che l'uomo aveva affittato una cassetta di sicurezza in una banca, immediatamente gli agenti delle Fiamme Gialle hanno verificato cosa fosse stato lasciato in custodia. L'esito però non è risultato positivo, per cui le indagini dovranno ora chiarire dove è stato nascosto il tesoretto. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP del Tribunale di Teramo, il cassiere Giuliese si è abbalzo della facoltà di non rispondere, decidendo così di non collaborare. L'eventuale recupero del quantitativo d'oro sarebbe servito, se non altro, ad alleggerire la posizione dell'indagato. Nel 2007, ricordiamo, una signora originaria della Germania aveva venduto a Monteprandone un immobile per la cifra di 460.000 euro, danaro poi lasciato in deposito ed un conto corrente della banca Marche. Per oltre sette anni non si è registrato alcun movimento, fino a quando la donna è tornata in Italia e decisa a ritirare l'intera somma, quando si è presentata allo sportello ad attenderla una sgradita sorpresa. Sul suo conto corrente non vi erano più i 460.000 euro, ma soltanto 1.660.